musica 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 bene ragazzi sono DarkestBeppe benvenuti nel mio canale oggi siamo qui su fifa 15 un altro me... siamo anzi nuovo mega pack opening siamo qui con 3275 fifa points per riuscire almeno scarsa... scarsa... che cazzo che cazzo è? perché mi è uscito quello? comunque siamo qui per insomma raccattarci un po' di crediti e soprattutto vedere se riusciamo a trovare qualcuno insieme perché nel primo pacchetto come avete ben visto ho trovato insomma alla fine poco e niente e adesso vediamo un po' se in questo se in questo pack opening riusciamo a trovare qualcuno invece non troviamo un cazzo di niente ma proprio zero insomma vedo gente su gruppi di facebook che ha già praticamente una premier league potentissima con con hazard alla sinistra poi c'è vampersi attaccante poi qui è che c'è oh De Bruin cazzo buono non so quanto possa valere ma almeno sopra i 4.000 3.000 dai perché sono buono e niente ah ecco che come cazzo si chiama è il difensore è il difensore centrale del manchester city com'è che si chiama company company l'hanno l'hanno trovato parecchi invece sono l'unico a parte che ancora ho fatto un pack opening eh però praticamente sono l'unico che non ha trovato un cazzo e vabbò adesso vediamo un po' di tenerci un bel po' di cose devo vedere la macchina se registra oppure no va bene no non con i crediti ma con i fifa points attenzione hazard che maximo minchia potente sei ok beh non è neanche male però sto vedendo uh vedo 1000 credit giù in fondo buona buona ma sbaglia raga o o le forme fisiche non sono più da 60 ma sono da 30 ho notato questo mi parla da 14 al 15 the good man ma ma c'è una cosa vediamolo che meglio non ne faccio niente perché tanto voglio aspettare almeno di arrivare a ui turbe buona cazzo di turbe come ben vedete ce l'ho doppione non so perché mesi c'ho l'ombra vabbè e vabbè qua scartiamo tutto siamo già a 12.000 crediti e 300 siamo abbiamo ancora a 2000 e passa fifa point oh sai che non vale un cazzo mi sembra di aver visto gundogan vabbè il mio occhio mi fa brutti scherzi vedi di 30 non è più di non so possiamo anche venderlo qua possiamo scartare tutto 402 buona vediamo un po' Higuain se ci porta fortuna ma ne dubito perchè fortuna qua non ce n'è Giuseppe Giuseppe Enrique mm 2000 mettiamola così 2000 neanche aspettate ecco così la bottiglia d'acqua us as però non ci vuole fare qualcosa no vabbè fa niente dai scartiamo e boh non può messi cano e nocerino mi servono insomma non è che mi voglio fare una squadra ultra potentissima della serie A per il momento perchè se no non c'è neanche gusto questo qua voglio venderlo perchè so già che vale qualcosa insomma non voglio farmela potentissima perchè se no non c'è neanche gusto per intanto voglio farmela con i giocatori di merda e finalizzatura è buona insomma mi stavo dicendo che voglio farmela con i giocatori di merda e poi mmm e poi pian piano crescere ecco insomma allora io penso che non subito eh magari neanche fra uno due eh strano che trovo come cazzo si chiama pelle pelle dio bono sto stronzo mi perseguito dal fifa 13 da 14 sicuro lo trovavo sempre vabbè vabbè però a parte che con 13 mila crediti non è che posso farmi un ultra squadrone cioè ho visto soltanto che quadrado costa la bellezza di 40 mila quadrado cioè uh Valencia buona beh insomma spero che valga almeno qualcosa ho visto che quadrado costa 40 mila e dal dal 14 riuscire a comprarlo non mi ricordo quanto un massimo di 3500 crediti e adesso venderlo a 40 mila insomma anche quello ne ho un po' niente niente di niente ed R poi conserviamo tutto che non si sa mai e questa gli realisti trasferimenti e questo possiamo scartare tutto siamo a 16 mila crediti ma non è male ovviamente vedrete altri backopering senza alcun problema anzi penso di uuuu con Dugobia questo qua è buono 3 stelle insomma mi stavo dicendo che prima di iniziare la serie insieme del Road to Division 1 penso di fare se riesco ancora con questo ancora altri due packopering prima di iniziare la serie ovviamente poi ovviamente 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 cioè vaffanculo che cazzo non trovo niente però aspettatevi ovviamente che faremo la Road to Division 1 insieme e devo riuscire a concluderlo eh devo riuscire a beh insomma a concluderlo non ci penso cioè non è che non ci penso non penso di farcela di concluderlo siamo ancora in decima divisione uuuu Coutinho buona a evander questo qua mi sembra che era il terzino del PSG che in FIFA 14 era argento l'ho messo a prezzo l'avevo trovato nei pacchetti l'ho messo a 150 di partenza pensando di fare 1.000 1.200 crediti sono riuscito a venderlo a più di 9.000 crediti per quanto no sì più di 9.000 crediti l'ho venduto quello lì però sicuramente adesso che l'ho trovato io ed è oro non parla un cazzo come è giusto che sia tanto quando troviamo una minchia come è giusto che sia che palle stanno offrendo il FIFA points e siamo arrivati a 20.000 crediti non trovando nessuno speriamo che nel prossimo pack opening riusciamo a trovare qualcosa perché qua la situazione è veramente dura ecco praticamente gli ultimi FIFA points gli ultimi FIFA points non cazzo di nessuno certo che però una mano FIFA per crescere piano piano per comprarmi qualcosa me la potreste anche dare no? con tutti i soldi che ci ho buttato sopra non mi hai fatto trovare ancora un cazzo giusto giusto mannaggia mannaggia sto stronzo quando vedo il portogallo e vedo la vedo il giocatore che è oro penso non solo io ma anche voi che lo trovate penso che un minimo di il minimo di stare per esultare come un pazzo pensando che sia Cristiano Ronaldo e invece poi trovi che è una merda come è giusto che sia questo take seira grande ma gran bel nome mamma mia tanto qua mi sta suonando il telefono a non finire vengiamolo e questo pure che non si sa mai questo FIFA 15 qualsiasi cosa qua può valere qua altri 150 FIFA points e un po mandata 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 come scambola no mandata quindi qua insegniamo tutto un catalizzatore buona buona anche se non so quanto valga ma io dico buona lo stesso ultimo pacchetto da 150.000 e poi ne apriamo uno da 100.000 ovviamente ne proviamo un cazzo uuuuuuuu uuuuuuuu allora FIFA 15 di merda io su FIFA 14 queste due cose qua le vendevo a tanto almeno 3.000 4.000 crediti l'uno l'uno e sicuramente qua non valgono un cazzo eh perché il giù cioè è ovvio che non valgono un cazzo perché li trovo io ultimo pacchetto e poi ci salutiamo raga andiamo un po' saltiamo mannaccia sembrava quello lì del Manchester qua teniamo gabbia di teniamolo non ci sa mai buono raga il video è finito spero che questo pack opening vi sia piaciuto lasciate un bel like un commento iscrivetevi al mio canale passate dalla mia pagina facebook che è sempre in descrizione io vi saluto ci becchiamo alla prossima e niente da Beppe è tutto BELLA